I mass media ci hanno un po' rimbambiti, ci hanno tolto il senso critico, un sacco di notizie ma tutte manipolate. Noi abbiamo il senso politicamente corretto e purtroppo nel politicamente corretto di oggi c'è poco spazio per i valori cristiani e per il Vangelo di Cristo. Non dobbiamo cedere, i santi ci danno questo esempio, Gesù ci chiede questo, siate perseveranti. La Madonna di Cestocova sia la nostra protettrice, la Madonna è la Madonna di Cestocova che ha un particolare significato perché la regina di un popolo che della fede ne ha fatto, come dire, la forza su cui fontare la sua storia, la sua voglia di essere libera, la sua voglia di credere ad ogni costo. La salvezza del popolo polacco sta proprio nella fede, nella fede cristiana e cattolica e nell'attaccamento alla Madonna di Cestocova. Ecco anche noi dobbiamo cercare di trovare questi agganci umani della nostra storia, della nostra storia, del nostro passato, dei nostri santi. Siamo nella chiesa di San Pio, non ci mancano gli esempi, non ci mancano i protettori. Non dobbiamo venir meno, non lasciarci ingantare, ma perseverare nell'amore e nella fede di Cristo.